Anche gli studenti della provincia di Ragusa hanno boicottato le prove invarsi, così come in tutta Italia. L'adesione in provincia è stata del 70%. Secondo l'Unione degli Studenti, i testi invarsi sono il simbolo di un modello di valutazione totalmente sbagliato. Appena Maggiorene finisce manette per spaccio, è successo a Comiso dove un 18enne è stato arrestato dai carabinieri, trovato in possesso di Ascici per un valore di 5.000 euro. Il ragazzo si trova adesso agli arresti domiciliari. Il prestigioso riconoscimento della bandiera blu dopo sei anni non è stato conferito all'amministrazione comunale di Ragusa, confermata invece per le spiagge di Santa Maria del Focallo ad Ispi che per quelle del comune di Pozzalli. Oggi si celebra la giornata internazionale dell'infermiero, lavoro importante e delicato in costante evoluzione. Per l'occasione a Ragusa è stato organizzato un momento di incontro e riflessione sull'importanza della professione infermieristica. Buon pomeriggio e bentrovati al primo appuntamento con l'informazione su Video Mediterraneo. Così come avete sentito dai titoli, circa il 70% degli studenti blei che questa mattina dovevano sottoporsi alle prove invalsi hanno deciso di boicottarle. Tra i motivi che hanno spinto gli studenti alla protesta è il fatto che i test invalsi sono costosi, dannosi e antidemocratici. Intanto oggi sul riforma scuola Renzi finalmente ha deciso di incontrare i sindacati. Allora sentiamo tutti i dettagli da Cinzia Vernuccio. Anche in provincia di Ragusa sono stati molti oggi gli studenti che hanno deciso di boicottare le prove invalsi che questa mattina si sono tenute in tutte le scuole superiori d'Italia. Tra i motivi che spingono gli studenti alla protesta è il fatto che i test invalsi sono costosi. Ogni anno vengono spesi 14 milioni di euro per la somministrazione dei test, mentre non ci sono soldi per finanziare l'edilizia scolastica o il diritto allo studio. Sono dannosi perché producono una didattica nozionistica che considera gli studenti numeri e non persone, escludenti perché basati su un concetto di merito ritenuto sbagliato che ignora le disuguaglianze socio-economiche profonde che ci sono tra gli studenti, antidemocratici perché costruiti dal MIUR e dall'Invalsi, mentre la valutazione dovrebbe essere invece decisa nelle scuole dal basso. Per questi e per altri motivi dunque questa mattina centinaia di studenti degli istituti superiori della provincia di Ragusa si sono rifiutati di sottoporsi ai test e hanno organizzato presidi e flash mob. Ma sì c'è l'adesione alla protesta, un esempio per tutti, nell'aulamagna dell'Istituto Gagliardi di Ragusa, dove questa mattina era previsto lo svolgimento delle prove anche degli studenti del liceo classico Umberto I, su circa 80 studenti che erano attesi per lo svolgimento dei test, sono state solo due le ragazze che si sono presentate e che hanno svolto regolarmente le prove. Nel resto della provincia la percentuale media si aggira intorno al 70%, l'adesione meno alta allo sciopero ad Ispica con il 40%. E la campagna No Invalsi nata sui social nel giro di pochissimi giorni ha raggiunto ben 10.000 adesioni. Intanto sul fronte della riforma della scuola, oggi, finalmente, dopo innumerevoli richieste, il Presidente del Consiglio Matteo Renzi ha convocato i sindacati. Ogni tre mesi l'amministrazione regionale fornisce dati relativi alle essenze del personale. Le ultime cifre indicano un preoccupante aumento delle assenze in quasi tutti i dipartimenti. Vi sono casi eclatanti in cui, in media, ogni lavoratore della regione siciliana è assente praticamente un giorno, ogni sette. Le assenze dei dipendenti della regione siciliana sono in aumento. I dati vengono riportati oggi dal sito Live Sicilia e i numeri sulle presenze dei dipendenti sono peggiori rispetto a quelli dell'ultima rilevazione. Rarissime le eccezioni dove i lavoratori sono sempre presenti o quasi. Tra questi gli uffici di Palazzo d'Orlean, le dirette dipendenze del Presidente e quelli della protezione civile. Ma negli altri palazzi il trend di aumento di assenze è costante. Cifre che vengono fornite ogni 90 giorni dalla stessa amministrazione regionale. Il record ce l'ha l'Ufficio per gli affari extra-regionali. 14% di assenze. In media ogni dipendente manca dal lavoro, un giorno su sette. Così come nel Dipartimento della Famiglia, 13,96% di assenze. Anche in questo caso è in netto incremento rispetto all'ultimo periodo dell'anno scorso quando c'era un 10,8% di assenze. Poi c'è la Segreteria Generale, guidata da Patrizia Monterosso. Qui il tasso di assenza nei primi tre mesi del 2015 è stato del 12,62% e era dell'11,4%. In ogni caso, in quasi tutti i dipartimenti dell'amministrazione regionale siciliana si supera abbondantemente il 10% di assenze. Sono comprese nel report della Regione le assenze per maternità retribuite e le assenze dovute a permessi per la legge 104, ma soltanto quando si usufruisce di un'intera giornata. Siamo comunque su numeri molto alti, difficilmente concepibili in un'azienda privata. Così, tanto per dire. Siamo alla cronaca. Uno spacciatore diciottenne, Comisano, è stato arrestato dai carabinieri della stazione Casmenea. Il giovane è stato trovato in possesso di 150 grammi di hashish del valore di circa 5.000 euro, abilmente occultati nel serbatoio di benzina del suo scooter. Fondamentale è stato il fiuto dei cani antidroghe. Il ragazzo si trova adesso rinchiuso ai domiciliari. Nascondeva i panetti di hashish accanto al serbatoio della benzina del suo scooter nella speranza che il forte odore di benzina potesse ingannare il fiuto dei cani antidroga. Così non è stato e grazie a Dick, il cane del centro cinofili dei carabinieri di Catania, è stato possibile arrestare un giovanissimo spacciatore comisano, il diciottenne Biagio Gessaro. I carabinieri della stazione Casmenea, nell'ambito di un'attività di controllo del mercato della droga, hanno perquisito il giovane Gessaro trovandogli nello scooter due panetti di hashish dal peso complessivo di 150 grammi che, divisi in circa 400 dosi, gli avrebbero fruttato, una volta immessi nel mercato, circa 5.000 euro. Il giovanissimo spacciatore è stato quindi arrestato e rinchiuso agli arresti domiciliari. Gli inquirenti stanno ora cercando di capire se tutto quel quantitativo di stupefacente venisse smerciato direttamente ai clienti o tramite una rete di spacciatori. Fondamentali saranno anche le analisi di laboratorio, finalizzate ad accertare la quantità di principio attivo contenuto nei panetti sequestrati e se gli stessi presentino le stesse caratteristiche di altro hashish rinvenuto a Comiso e nei paesi rimitrofi negli ultimi mesi. Se lo stupefacente presenterà le stesse caratteristiche, sarà possibile ipotizzare l'esistenza di un'unica fonte di approvvigionamento. Furto sacrilego e successivo pentimento del ladro che restituisce anonimamente la repurtiva è stata presa di mira alla chiesa della catena modica. Il furto è stato commesso venerdì scorso in ore pomeridiane quando il luogo sagro era aperto al culto ed è incustodito. I gnoti sono entrati e come prima cosa hanno rimosso e rubato la telecamera fatta installare dal parroco, poi hanno aperto le cassette per le offerte che poco prima però erano state svuotate dal prelato. A questo punto sono andati verso l'altare dove si trova il simulacro di Maria Santissima della catena ed hanno sottratto la catena di argento collocata nel braccio. L'oggetto è stato poi ritrovato domenica mattina all'entrata della chiesa dallo stesso parroco. La polizia di Modica è ritrovato questa notte in una zona di campagna periferica un furgone cassonato di proprietà di un vetraio modicano di cui era stato rubato qualche mese fa. Quando il mezzo fu rubato conteneva gli attrezzi del mestiere che però non sono stati ritrovati. Il furgone non era nelle stesse condizioni di quando era stato prelevato, segno che è stato utilizzato in queste settimane dai malviventi che l'hanno rubato. Già questa mattina gli uomini del commissariato di via Cornelia lo hanno restituito al legittimo proprietario. E come avevamo anticipato ieri sera Marina di Ragusa ha perso la bandiera blu, il prestigioso riconoscimento della Fondazione per l'Educazione Ambientale che oggi per la prima volta dopo sei anni non è stato conferito all'amministrazione comunale di Ragusa. Una circostanza questa su cui riflettere anche perché da tempo vi sono delle palesi lacune nella gestione delle politiche ambientali nel comune capoluogo. Dunque sentiamo la nota politica di Emiliano Di Rosa. Persa anche la bandiera blu a Marina di Ragusa è nostra opinione che a Palazzo dell'Aquila tra i tanti problemi che ci sono, come del resto in ogni amministrazione comunale, il problema principale oggi abbia nome e cognome Stefano Zanotto, cittadino a 5 stelle, assessore all'ambiente e ai rifiuti. Nulla di personale, chiaramente, ma da settimane denunciamo i ritardi sulla pulizia e il decoro di aree pubbliche per cui basterebbe mezza giornata di lavoro e un minimo di impegno, confortati dalle lamentele dei cittadini che raccogliamo quotidianamente e dalle critiche incalzanti di molti consiglieri di opposizione. Ma Zanotto, bontà sua, non si è mai degnato di una risposta che tra l'altro non deve a chi scrive, ma ai ragusani. Niente. A Passo Marinaro, ad esempio, c'è un canneto in decomposizione sulla spiaggia che non si riesce a smaltire. Gli hanno dato soltanto una catastata qualche giorno fa. Il vento ha già reso di nuovo e invivibile la spiaggia. E poi in città vi sono tanti piccoli spazi che sarebbero utilissimi ai cittadini in zone densamente popolate, ma si vuole che le sterpaglie superino i due metri per il piacere di avere una foresta pluviale inserita in un habitat mediterraneo. Sarà un esperimento con la Facoltà di Scienze Tropicali, chissà. Ora, al di là delle giustificazioni della Giunta, la bandiera blu dopo sei anni non sventola più a Marina di Ragusa. E se lo stesso sindaco, l'anno scorso, quando il vessillo fu confermato, disse «Evviva, è un premio alla nostra amministrazione. Chi frequenta in estate Marina di Ragusa può essere certo di trascorrere le vacanze in una zona appetibile al turismo nazionale e internazionale». Bene, ora che il riconoscimento è volato via, deve trarne le conseguenze. Stefano Zanotto è venuto da Messina a Ragusa per fare l'assessore. Che dire, pur con le difficoltà legate alle infrastrutture in Sicilia, la strada del ritorno in fondo non è lunga. Da Ragusa a Messina, rispettando i limiti di velocità, al massimo in tre ore, può tornarsene a casa. Serenamente non ci saranno grandi rimpianti. E sempre come avevamo anticipato ieri, sono state confermate invece le bandiere blu per le spiagge di Santa Maria del Focallo nel comune di Ispiche per Pozzallo. Il sindaco di Pozzallo, Luigi Ammatuna, è ritirato a Roma questa mattina il riconoscimento e in una nota scrive come «La tredicesima bandiera blu è la dimostrazione che abbiamo fatto di tutto per veicolare il nome della città nei grandi circuiti turistici che vengono aperti dalla pubblicità della FEE Organismo Internazionale di Rilievo che certifica la qualità delle acque di balneazione, degli arenili, dei servizi spiaggia e della tutela ambientale in genere». È stata firmata ieri alla sala giunta della Camera di Commercio di Ragusa la convenzione per l'anno 2015 tra la Fondazione San Giovanni Battista e l'ente camerale ebreo per il supporto alle attività di formazione e promozione culturale che la Fondazione porta avanti all'interno delle proprie attività istituzionali. Dunque sentiamo tutti i particolari in questo servizio. Camera di Commercio e Fondazione San Giovanni Battista insieme per supportare le attività di formazione e promozione culturale che la Fondazione porta avanti all'interno delle proprie attività istituzionali. L'accordo è stato siglato nella sala giunta dell'ente camerale ieri a Ragusa e riguarda l'anno in corso, anche se, come ha evidenziato il Presidente Giannone, i rapporti tra i due enti hanno origini lontane. La Camera di Commercio da sempre ha sostenuto le attività culturali e di formazione organizzate dalla Fondazione e il suo impegno, volto a qualificare le risorse previste dai bandi regionali, nazionali ed europei, mirato a creare occasioni di lavoro. Oggetto della Convenzione, le attività di orientamento e la formazione di alto livello mediante l'erogazione di borse di studio agli allievi più meritevoli relativamente ai corsi di perfezionamento universitario nel settore dell'enogastronomia e dell'intercultura e ai master di primo livello in ambito socio-educativo, pastorale, interculturale e comunicazione. Il Presidente della Fondazione, Tonino Solarino, ha confermato come le attività della Fondazione abbraccino diversi ambiti di interesse e ha manifestato soddisfazione per l'accordo con l'ente camerale che, mediante questa convenzione, ha voluto sostenere sia le attività di sempre che le iniziative previste dal Festival delle Relazioni. Una serie di appuntamenti, tra cui un concorso con le scuole, concerti e convegni che avranno il momento clou dalla 17 al 20 giugno prossimo. Frutto di questa rinnovata sinergia sarà l'organizzazione della seconda edizione della manifestazione già svolta con successo nel gennaio del 2014, dal tema Nutrire il pianeta partendo da qui. L'appuntamento coinciderà anche con l'inaugurazione, da svolgere nel mese di dicembre del 2015, della chiesa di Sant'Agata all'interno dei Giardini Iblei. La Giunta Municipale di Vittoria ha deliberato il progetto di riqualificazione della riviera Lanterna Scoglitti con l'allargamento della sede viaria e la realizzazione di una pista ciclabile e di un'area pedonale. Il raddoppio ha dichiarato il sindaco Giuseppe Nicosia è l'unica soluzione che ci consente di realizzare la pista ciclabile e prevede la piantumazione di alberi, la realizzazione di piazzole per attività turistiche ed enogastronomiche, di aree attrezzate con giochi per bambini e di un'area interamente pedonale. Confido che il progetto sia pronto nell'arco di due e tre mesi, ha detto Nicosia. L'opera è già stata inserita nel piano triennale delle opere pubbliche e siamo fortemente intenzionati a realizzarla. È stato presentato oggi il progetto che cambierà radicalmente il volto del pronto soccorso dell'ospedale Maggiore di Modica. Ad illustrarlo il manager dell'Asp, Maurizio Aricò, i lavori di ampliamento e miglioria dei locali sono frutto di una collaborazione economica tra il Comune di Modica e l'azienda sanitaria. Il pronto soccorso del Maggiore di Modica si appresta a cambiare look. Locali più funzionali, moderni e accoglienti sostituiranno quelli vecchi e angusti che da tempo sono diventati insufficienti per un bacino di utenza che, causa tagli in altre strutture, è andato costantemente in crescita. Oggi, nell'Aula Falcone Borsellino del nosocomio di Via Aldomoro, il direttore generale dell'Asp 7, Maurizio Aricò, ha svelato il progetto con i disegni tridimensionali che mostrano come sarà questo fondamentale reparto da qui a breve. Abbiamo un pronto soccorso che parte dalla sede attuale, ma aumenta gli spazi in maniera molto significativa e differenze percorsi. Le grandi innovazioni sono la nuova camera calda che permetterà di far scendere dall'autoveicolo, dall'ambulanza, un paziente con qualunque tempo, in una temperatura controllata, in un ambiente protetto e poi si differenzieranno due ingressi. Un ingresso per chi entra a piedi, per intenderci, è un paziente che certamente è un paziente più stabile e un percorso invece per chi entra in barella o in condizioni di autore. Il progetto è frutto della collaborazione tra Comune di Modica e Asp. L'azienda sanitaria vantava un credito di 300 mila euro nei confronti di Palazzo San Domenico per degli affitti arretrati che si riferiscono al vecchio ospedale di San Martino a Modica Alta. Il sindaco Abbate ha preteso che la restituzione di questa somma venisse vincolata al suo utilizzo per i lavori di miglioramento del pronto soccorso ed ecco che uniti ai 500 mila messi a disposizione dalla Regione i soldi comunali trasformeranno in realtà quello che i cittadini chiedono a gran voce da tempo. I tempi di realizzazione dipendono ovviamente nella prima fase dai tempi di aggiudicazione dei lavori. Siamo in grado di avviare immediatamente la gara grazie alla copertura finanziaria a cui ha contribuito il Comune di Modica come noto per il rientro della somma dovuta e quindi questo insieme al fondo dedicato dall'azienda che però non sarebbe stato sufficiente permette di bandire immediatamente la gara. Sapete che i tempi tecnici dell'affidamento della gara non possono essere dati. Una volta che sarà identificato la giudicataria avrà tempo 30-60 giorni per avviare il cantiere e quindi possiamo dire che ragionevolmente l'autunno sarà la fase in cui cominceranno i lavori del pronto soccorso. Restiamo in tema di sanità. È un lavoro importante e delicato in costante evoluzione che ormai esige una sempre maggiore specializzazione. Parliamo della professione infermieristica per cui oggi 12 maggio si celebra la giornata internazionale dell'infermiere che ha avuto un momento di incontro e di riflessione anche a Ragusa. Ce ne parla Emiliano Di Rosa. Oggi si celebra la giornata internazionale dell'infermiere. Si è scelto il 12 di maggio perché il 12 maggio 1820 nacque Florence Nightingale, universalmente riconosciuta come la fondatrice delle scienze infermieristiche moderne. Nella nostra provincia oltre 1800 professionisti sono iscritti all'albo e come ogni anno una loro folta rappresentanza si è data appuntamento a Ragusa per celebrare quella che è la loro festa ma soprattutto per discutere le ultime novità riguardanti l'ordinamento della professione. Una professione in costante evoluzione e specializzazione negli ultimi anni come spiega il presidente provinciale del collegio I PASVI la sigla che sta per infermieri professionali, assistenti sanitari e vigilatrici di infanzia. Originariamente nasceva come una figura di compassionevole nei confronti di chi stava male ma lungo tutti gli anni si è evoluta in modo tale da poter fare acquisire all'infermiere stesso una professionalità che dapprima era data dai corsi di formazione professionale con regionale poi è mutata con un percorso formativo di carattere universitario. L'infermiere si forma con tre anni di percorso universitario con la laurea di primo livello ha possibilità di continuare con la laurea di secondo livello e poi ulteriormente altri due anni di università con il dottorato di ricerca. Come vedete il percorso è diventato molto professionale l'infermiere ha delle competenze che acquisisce nel tempo e magari integra nel tempo. Ci fermiamo adesso c'è la pubblicità tra poco. Ben trovati in studio, Modica ricorda oggi Ninni Cassarai, poliziotto ucciso dalla mafia 6 agosto del 1985, lo fa oggi in anteprima nazionale grazie ad un documentario firmato dalla regista Rai Silvia Mattioli che oggi alle 18.30 aprirà il pomeriggio presso il Teatro Garibaldi a seguire gli interventi di nomi illustri dell'antimafia siciliana e lo spettacolo curato dall'attore e regista Modicano Alessandro Sparacino. Sentiamo questa anticipazione. Ninni Cassarai, un bravo poliziotto. Il titolo del documentario firmato dalla regista Silvia Mattioli già alla 7 ed attualmente in Rai che oggi pomeriggio alle 18.30 verrà proiettato per la prima volta in un teatro dopo i passaggi sui canali Rai. Con l'organizzazione di Alessandro Sparacino un pomeriggio articolato tra documentario ed interventi autorevoli celebrerà la figura di un eroe moderno. Ninni Cassarai, ucciso il 6 agosto dell'85 a Palermo dalla mafia solo qualche giorno dopo l'omicidio del collega Beppe Montana e degli altri membri di quella squadra mobile di Palermo che si trovò in guerra tra gli anni 80 e 90 contro Cosa Nostra. Era solo un bravo poliziotto, era un eccellente poliziotto oltre ad aver lasciato un'eredità, un metodo, un metodo Cassarà un'eredità nel campo dell'investigativa, quindi delle indagini Ninni Cassarai è stato anche uno dei pionieri della lotta alla mafia e grazie al suo lavoro, grazie alla sua dedizione grazie alla sua istancabile forza di volontà si è potuto avere quello che poi Falcone e Borsellino insomma hanno portato avanti con il maxiprocesso però le basi del maxiprocesso sono state proprio messe da Ninni Cassarà. Di quella squadra faceva parte la modicana Margherita Pluchino in seguito dirigente regionale della polizia scientifica e al centro delle maggiori inchieste antimafia di quegli anni Era una figura di investigatore preparatissimo dal grandissimo carisma che trascinava tutta la squadra con l'interesse che mostrava per le investigazioni che portava avanti e suo il rapporto dei 162 che è stato la base per il maxiprocesso portato avanti poi da Falcone e Borsellino All'evento di oggi, con musiche di Maurizio Catania prenderà parte anche Dario Montana, fratello di Beppe l'ingresso è gratuito Interrotta ed annullata dopo 4 km circa una gara ciclistica regionale partita dal centro di Ispica Polizie locale e carabinieri hanno assunto il drastico provvedimento per inottemperanza alle prescrizioni imposte dal questore all'atto del rilascio delle autorizzazioni accaduto domenica scorsa erano oltre 400 ciclisti arrivati da ogni parte della Sicilia quando si è imboccata la Ispica Mare i ciclisti hanno occupato entrambe le carreggiate mentre dal senso opposto arrivavano mezzi privati i tutori dell'ordine hanno constatato che non erano stati disposti i blocchi negli incroci interessati alla gara a questo punto è stato il veto la gara era sospesa perché il pericolo era palese polemiche e accuse pesanti tra i partecipanti e gli organizzatori contro le forze dell'ordine chiudiamo con i nostri programmi canale 11 dunque sul video mediterraneo alle 21 il dolce amaro night canale 605 alle 21.30 la replica di live canale 694 la replica della festa di San Giorgio a Modica 2015 non ci sono aggiornamenti io vi ringrazio come sempre per averci seguito ritorniamo alle 19.45 studio Cinzia Vernuccio e poi il consueto appuntamento con 120 secondi grazie ancora buon pomeriggio